Cioè devo per forza recarmi negli uffici a fare una querela, altrimenti quello che è un reato di fatto non viene perseguito. Su 100 reati che si fanno in un'ora, di questi più di 90 sono furti. E quindi è statisticamente un reato importantissimo. Stabilire quali sono le regole di procedibilità del furto vuol dire stabilire quali sono le regole della procedibilità di 90 fatti penalmente rilevanti su 100. Adesso la stragrande maggioranza dei furti, che erano sempre procedibili d'ufficio, diventa procedibile a querela. Per cui se un'autovettura per esempio viene forzata e se ne tenta il furto e magari si trova il ladro all'interno che sta armeggiando per accendere, per sparire, se la parte lesa non esce subito il ladro non può essere arrestato perché senza la querela non può essere arrestato. E grande incongruenza della legge cartabia che non se ne accorta. Il danneggiamento invece è aggravato, rimane come era prima e come giusto che sia, procedibile d'ufficio. Cioè a quel ladro lì conviene dire sì sì sto rubando piuttosto che ho danneggiato un'auto che è una cosa minore. È arrabbiatissimo un proprietario dell'auto che magari gli ha soffiato la fidanzata, comincia a spaccare tutti i vetri della macchina perché non sa come sfogare il suo rancore. Se dice sto facendo un danneggiamento viene arrestato in flagranza e non occorre cercare il danneggiato e acquisire una querela. Se dice no la sto aprendo per avere aria e la voglio in realtà rubare diventa tentativo di furto e se non è procedibile, se non acquerela è furto. A maggiore ragione non è procedibile se non acquerela è il tentativo di furto. Ora si discute molto dell'abuso delle intercettazioni. Il numero delle intercettazioni è calato drammaticamente perché il sistema di inserimento nell'archivo riservato è così complicato che adesso come adesso noi ci poniamo il problema se fare o no le intercettazioni. intercettazioni. Anche in casi che in passato avremo sicuramente aperto le intercettazioni non le facciamo perché il sistema è complicatissimo ed è farraginoso. Stiamo parlando di informatica, di burocrazia. Esattamente, del sistema informatico con cui lo Stato vuole che noi intruppiamo le intercettazioni non utilizzate. Ma mi faccia capire, se noi spendiamo 200 milioni di euro all'anno in intercettazioni, cioè dalla riforma, Orlando ha detto, in poi, con questo macello, mi perdoni, l'inserimento dei dati, delle intercettazioni nel computer, nell'archivio, cioè quanto è diminuito il numero di intercettazioni? Noi ne facciamo sicuramente almeno un 30% in meno. La criminalità si fa beffe di noi perché va avanti molto più veloci e noi ci maciulliamo con queste piccole cose.